Auto video recensione Lampo, la mentalità della sardina che ho scritto io. Con questo libro cerco di buttare sul ridere quella fase della vita che prima o poi tutti o quasi attraversiamo in cui ci si ritrova coniugi attempati rimasti soli a casa perché i figli ormai sono adulti, tutti e due in pensione, tutti e due rinchiusi in queste mura e ci si guarda e ci si dice ma chi è questa persona che vive con me? Ma cosa ci siamo detti finora? Ma cosa rimane da dirsi? Severino il protagonista maschile è contento così, non cerca nient'altro ma Angela la moglie è molto più esigente, vorrebbe avere ancora una vita e si dice ma possibile che da adesso in poi fino al giorno in cui morirò non succederà più niente? E a un certo punto presa da questo senso di soffocamento e di immobilità si prende una vacanza nel senso che si prepara sommariamente, prende e parte a piedi lungo la via Francigena, lei è di Camaiore e si incammina una mattina presto all'alba. Alla sera vorrebbe già tornare indietro ma ormai è partita, ha già fatto degli incontri che la spingeranno ad arrivare fino a Roma e durante questo lunghissimo percorso, sono 400 chilometri, Angela si trasforma, fa i suoi ragionamenti e soprattutto si diverte un sacco e conosce un sacco di persone nuove. Buona lettura per un po' di allegria in un periodo che allegro non è.